Il pensiero non può e non deve essere minimamente rivolto alla super sfida in trasferta contro in Manfredonia, lo scontro diretto tra le attuali due capolista del Giro Nea di Eccellenza in programma per domenica 19 febbraio. Lo avrà ripetuto tante volte durante questi giorni di lavoro sul campo Francesco Passiatore, il tecnico del Biceglie, vuole massima concentrazione da parte del suo collettivo sull'incontro che precede l'abbinamento con i coinquilini garganici che sin qui però hanno giocato la gara in meno. Tutte le attenzioni in buona sostanza devono essere rivolte al match casalingo contro l'Ortanova in programma domenica Alventura con fisco d'inizio previsto alle ore 15.30. Riparte il campionato di eccellenza dopo la parentesi di Coppa Italia di Lettanti Puglia che ha fatto registrare il successo del Manfredonia nel segmento regionale. Riparte per i Merazzurro Stellati con un incrocio non dal coefficiente di difficoltà elevatissimo ma comunque da non sottovalutare. L'Ortanova infatti lotta per obiettivi differenti ed attualmente occupa l'undicesima posizione in classifica insieme al Sansevero. Occhio però perché delle cinque vittorie sin qui centrate i Foggiani ne hanno ottenute tre con la valigia da viaggio. Il Biceglie ci arriva con un bilancio estremamente positivo per quanto concerne la gestione passiatore quattro gare con lui in panchina, altre tanti successi, l'ultimo sul campo del Foggia in Cedit ed altre tanti clean sheet. Nel Azzurri che in generale vantano la difesa meno perforata dell'aggruppamento con soli quattro centri al passivo in 17 partite disputate. Novità di mercato intanto nella settimana di avvicinamento alla prossima sfida. Il Biceglie infatti ha ufficializzato l'ingaggio di Abdoulayeba, attaccante guineano classe 2002 già con diverse esperienze in Italia e cresciuto nelle giovanili dell'Olbia mentre nella passata stagione ha militato in Serie D nell'Atletico Utri collezionando tre gol in 25 gare. Ha cominciato questa annata agonistica sempre in quarta serie con l'Arzachena. Quella di Biceglie in pratica per lui sarà la prima esperienza lontano dalla Sardegna. sarà a disposizione di passiatore già per l'Orta Nova.